Cerchiamo di rappresentare un po' quella parte d'Italia che rispecchia ancora dei valori, delle tradizioni e una città come questa, Arezzo, rispecchia tutto ciò, la bellezza, l'eleganza e il made in Italy. Lo stile e l'eleganza dei dendi torna ad invadere il centro storico aretino. Mi piace molto Arezzo e mi piacciono molto i ragazzi e la compagnia che abbiamo creato qua. In occasione dell'antiquaria di giugno sono infatti tornati i Dendi Days, due giorni di incontri ed eventi per raccontare un vero e proprio stile di vita nato nel XIX secolo e che ancora ad oggi continua ad affascinare. Bellezza e potere, eleganza e potere, ci può essere una relazione, ci può essere un rapporto, noi pensiamo ancora di sì, quindi grande successo, siamo molto contenti e già stiamo pensando alle prossime edizioni. Tra i dendi presenti è anche l'influencer Nicolo Cesari. Gli aretini sono davvero speciali, delle persone squisite. Ad aprire la Due Giorni è stato il primo benefit rally automobilistico della moda, una mostra statica di veicoli storici provenienti da tutta Italia grazie alla collaborazione col club del Saracino. Vedere questi personaggi così agghindati, diciamo, è veramente bello, unico e sicuramente abbinarli con delle belle macchine penso che sia l'ideale. E rappresentavano un po' tutta l'età, capito, dai primi del Novecento fino alla fine del Novecento, quindi uno che venne qui oggi in piazza, al Prato, trova un po' tutta la gamma delle auto da primi del secolo fino alla fine.